Ben ritrovati amici di Cusano Italia TV, ancora collegati sul 264 all'interno di Nautilus per il nostro viaggio sottomarino, per indagare tutto ciò che succede al di sopra della superficie ovviamente cercando di darvi tutti gli strumenti utili per realizzare voi stessi una vostra opinione su tutti i temi che stiamo trattando e che abbiamo trattato, oggi abbiamo parlato di scuola un tema che è divenuto di priorità nazionale, che ha scatenato un dibattito a livello nazionale abbiamo parlato di innovazione e tecnologia, ovviamente nell'ottica di un'Italia di domani della prossima Italia, quella che andremo a vivere, che siamo destinati a vivere e che ruoterà attraverso il coraggio, l'audacia e le competenze dei giovani adesso un tema molto delicato che affrontiamo come non lo abbiamo mai fatto perché di solito ospitiamo i nostri ospiti, perdonate il gioco di parole, in collegamento Skype in questo caso per parlarvi dei rischi dovuti alla presenza di Amianto in Italia, nel nostro paese abbiamo usufruito della collaborazione, del supporto e del lavoro sinergico dello staff dell'osservatorio nazionale Amianto che ha registrato un'intervista con il presidente dell'ONA osservatorio nazionale Amianto, l'avvocato Ezio Bonanni che ci racconta in questi 20 minuti scarsi che stiamo per farvi vedere tutti quelli che sono appunto i rischi di esposizione all'Amianto attraverso anche i processi che hanno caratterizzato gli ultimi anni soprattutto di battaglie dell'ONA per tutelare la salute degli italiani e nell'intervista vedrete si passa dalla presa di coscienza rispetto ai rischi di esposizione dall'Amianto fino alla tutela delle vittime ma anche dei parenti delle vittime che appunto a causa del contatto con l'Amianto hanno perso la vita capiremo che cos'è l'ONA, che cos'è l'osservatorio nazionale Amianto capiremo quanto è importante lavorare sulla prevenzione ed evitare ovviamente ogni forma di esposizione io vi lascio al servizio con l'avvocatessa Maria Luisa Greco che porrà tutte le domande del caso all'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA Buona visione! Allora buonasera, siamo qui nello studio legale dell'avvocato Ezio Bonanni sede dell'associazione Osservatorio Nazionale Amianto questa sera verrà trasmessa un'intervista un po' innovativa nel senso che l'avvocato Bonanni verrà intervistato da me che sono una sua stretta collaboratrice che si sta affacciando al mondo dell'avvocatura adesso inizio con la prima domanda buonasera Avvocato, com'è stato il suo attivismo e il suo impegno per la tutela delle vittime dell'Amianto? In provincia di Latina c'erano dei casi di morte sospetta, di patologie strane tumori della pleura, tumori del polmone, tumori del tratto gastrointestinale abbiamo approfondito anche con dei medici legali ed è emerso che potevano essere riconducibili all'esposizione ad Amianto che era un minerale largamente utilizzato fino al 1993 e presente nelle fabbriche della provincia di Latina ancora nei primi, nel fine anno 99, inizio anni 2000 ed è su questa base che abbiamo approfondito ed è emerso un collegamento tra le morti e l'esposizione ad Amianto Che cosa è successo nella provincia di Latina? Ci spieghi un po' meglio la situazione di questi siti industriali e di questi operai? Ci sono stati dei casi di patologie asbesto correlate quali il tumore della pleura piuttosto che il tumore del polmone asbestosi, placche di spessimenti pleurici e quindi da ciò abbiamo ricondotto questa situazione alla esposizione ad Amianto e quindi abbiamo iniziato a proporre le prime richieste di giustizia presso la procura della Repubblica di Latina già nel gennaio 2000 e i primi ricorsi giudiziari già a maggio-giugno del 2000 e in questa provincia e come nel resto d'Italia il rischio di Amianto era praticamente non conosciuto e poi nel tempo si sono istruiti i vari procedimenti e ci sono state proprio a Latina le prime sentenze di riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad Amianto e cioè l'accertamento di un'esposizione superiore alle 100 fibrilitero a fronte delle quali si aveva diritto a un prevenzionamento in molti casi per le vetove per i mariti deceduti per tumori della pleura e altri carcinomi tumori di altri siti il diritto alla rendita e quindi da ciò è iniziata la forte consapevolezza nel territorio pontino dell'esività dell'Amianto e al tempo stesso coniugandoci con esperienze di Casale Monferrato come dei lavoratori del porto di Trieste come nel petrolchimico di Siracusa abbiamo iniziato una forte mobilitazione e si è costituito l'osservatorio nazionale Amianto che nacque da un nucleo centrale dei lavoratori dell'agropontino esposti ad Amianto che poi si sono organizzati su base nazionale già dall'agosto del 2008 e mi hanno investito della presidenza nel maggio del 2011 che cos'è l'osservatorio nazionale Amianto? l'osservatorio nazionale Amianto nasce inizialmente dalla sofferenza delle vittime dell'Amianto vedove, orfani, vittime dell'Amianto e successivamente supera il ghetto della circoscrizione del perimetro delle vittime dell'Amianto perché l'Amianto è un killer che può colpire chiunque anche i lavoratori delle scuole come degli ospedali e quindi questa associazione che inizialmente è nata per accogliere il grido di dolore delle vittime si è aperta a tutti i cittadini e i lavoratori giungendo alla concezione e alla consapevolezza che bisogna lottare tutti insieme contro il cancro non solo il cancro d'Amianto ma anche contro tutti i tipi di cancro e quindi lottare per un mondo migliore di tutela della salute e dell'ambiente e da questa consapevolezza è nato quindi un modo di agire che supera la contrapposizione della lotta di classe del concetto del lavoratore contro il padrone o del lavoratore dell'Amianto contro l'industria dell'Amianto ed è la consapevolezza che dobbiamo tutti insieme cittadini e lavoratori professionisti ed operai docenti e alunni insieme contro l'Amianto contro i cancerogeni credere in un mondo migliore senza cancro e per lottare contro il cancro è fondamentale evitare i cancerogeni la cosa fondamentale non è tanto e non solo la diagnosi precoce o le terapie migliori quando piuttosto lottare perché non ci sia l'esposizione solo in questo modo è possibile prevenire assolutamente qualsiasi patologia di natura cancerogena come quelle dell'Amianto visto che lei è presidente dell'osservatorio nazionale Amianto qualsiasi cittadino può diventare membro di questa associazione se sì in quale modo? certamente l'ONA come dicevo è un'associazione che non è ristretta soltanto alle vittime dell'Amianto e di altri cancerogeni anzi l'ONA è un'associazione che su base democratica e secondo i principi della nostra Costituzione tutela l'ambiente e la salute ed è per questi motivi che bisogna aderire indipendentemente dal fatto di essere vittime dell'Amianto certo è un'associazione che è di categoria delle vittime dell'Amianto così ci descrivono i provvedimenti dei vari tribunali e corti d'appello ma bisogna superare questo concetto lavorare sulla prevenzione evitare l'esposizione evitare il cancro di Amianto evitare tutto il resto delle malattie asbesto correlate ma anche delle malattie cancerogene tutelare la salute con la prevenzione primaria evitare ogni forma di esposizione al cancerogeno questa è la nostra tesi al di là della cosiddetta prevenzione secondaria cioè della diagnosi precoce e della terapia e al di là della prevenzione terziaria che è l'azione giudiziaria non si risolve il problema con la causa se c'è una morte da Amianto non si risolve con l'azione giudiziaria di risarcimento perché un risarcimento non ridà la vita umana non ridà un familiare non ridà un genitore al coniuge o al figlio all'orfano che ha perso un genitore quindi occorre evitare che questo accada occorre prevenire occorre evitare l'esposizione non serve il risarcimento il risarcimento è l'ultima razio il risarcimento è una sconfitta una sconfitta per la vittima perché non gli ridà la salute non gli ridà la vita e non ridà l'affetto ai familiari com'è la situazione dell'Amianto in Italia? ci sono 40 milioni di tonnellati di materiali contenenti Amianto ci sono un milione di micrositi di cui 50 mila siti industriali 2400 scuole ad essere diciamo benevoli almeno 250 ospedali la situazione è drammatica le bonifiche vanno a rilento occorre al nostro modo di vedere che ci siano degli incentivi fiscali per chi intende bonificare la bonifica è l'unico sistema per evitare l'esposizione e per tutelare la salute non serve il risarcimento lo ripeto ancora serve evitare il danno serve evitare la malattia serve evitare la morte serve evitare la sofferenza serve evitare tutto quello che è connesso anche per i familiari alla malattia e alla morte di un congiunto qual è il dato epidemiologico in Italia? ci sono almeno 1900 casi di mesotelioma di cui la maggior parte purtroppo ad esito in fausto almeno il 95% e ci sono almeno 3600 casi di decesso per tumore del polmonare da amianto il dato complessivo compreso l'asbestosi e le altre patologie ci riferisce di un superamento di 6.000 decessi e almeno di 10.000 casi di malattia e questo è un dato drammatico inaccettabile e noi dobbiamo lottare evitare l'esposizione per bloccare l'epidemia questo è il punto fondamentale bonificare anche attraverso incentivi fiscali un credito di imposta per le imprese che decidono di bonificare cioè possibilità di detrarre tutte le spese dalle tasse è vero che lo Stato incassa qualcosa in meno ma è altrettanto vero che evita migliaia di morti migliaia di malati migliaia di casi di ricoveri in ospedale eccetera e di pensioni da elargire quindi si recupera in termini di salute di spesa pubblica e si ammoderna anche l'attività imprenditoriale con imprese moderne strutture moderne privi da amianto e salubri dopo la legge 257 del 1992 quali sono stati gli altri interventi normativi nel nostro paese ci sono stati una serie di altri interventi a spot che hanno creato una cristallizzazione e una sovrapposizione nel sistema normativo e tecnico normativo ed è per questi motivi che il generale Costa ministro dell'ambiente ha istituito una commissione nazionale per il problema amianto preseduta dal dottor Guariniello e di cui faccio parte unitamente al generale Giampiero Cardillo e quindi due esponenti dell'Ona fanno parte di questa commissione amianto che diventa il punto di riferimento della lotta contro l'amianto in Italia necessità di bonificare prima di tutto le scuole gli ospedali gli edifici pubblici e poi luoghi di lavoro e di vita questo è il punto chiave il ministro ha già disposto uno stanziamento di 385 milioni di euro per elaborare progetti per la bonifica delle scuole è una goccia nel mare perché le nostre scuole sono veramente a pezzi sono antiquate hanno problemi vari che andrebbero ammodernate l'ammodernamento presuppone anche la rimozione dell'amianto presuppone di creare delle scuole moderne efficienti efficaci e anche in un momento in cui regna il coronavirus investire sulla scuola sulla scuola che permetta agli alunni di essere presenti di essere sicuri di poter abitare in un ambiente di vivere in un ambiente salubre ma anche rispetto al rischio di crolli in caso di terremoti o microteremoti o di amianto è fondamentale dobbiamo credere in un mondo migliore in un mondo senza amianto in un mondo senza cancro e dobbiamo lottare tutti insieme per questo con l'Ona come con le altre associazioni con i singoli cittadini ognuno deve essere attore e protagonista di questa lotta contro l'amianto e contro il cancro ci può descrivere il problema amianto nelle forze armate? l'amianto è stato particolarmente utilizzato nelle unità navali della marina militare piuttosto che in alcuni dispositivi di artiglieria come accessorio in fucili mitragliatori ed altro i cosiddetti pezzi di amianto per sostituire le canne nel momento in cui c'è un riscaldamento in particolare per i fucili mitragliatori quindi c'è stato un enorme utilizzo di amianto nella marina militare come nell'esercito ma anche nella stessa aviazione questo è emerso in molte nostre istanze di giustizia occorre finire la bonifica nella marina militare nella finanziaria del 2020 sono stati stanziati somme per portare a termine la bonifica questo è stato grave perché vuol dire che ancora tutt'oggi c'è una condizione di rischio amianto nella marina militare ci sono stati 830 casi di mesotelioma fino al 2015 nelle forze armate 570 nella marina militare ma non è solo l'amianto c'è l'orani impoverito c'è la pratica vaccinale con metalli pesanti c'è una situazione di rischio che l'ONA ha sollevato e per la quale si richiama l'attenzione del ministro della difesa per poter portare a termine le bonifiche oltre che evidentemente per porre in sicurezza a tutti i nostri militari c'è stata ed è in corso una vera e propria epidemia di patologie spesso correlate tra coloro che hanno svolto e svolgono servizio nella marina militare nell'esercito nell'aviazione come pure nella guardia di finanza negli stessi vigili del fuoco occorre che ci sia consapevolezza e onestà intellettuale per affermare il diritto alla giustizia quando meno rendere la possibilità per i familiari di questi militari deceduti o anche il personale civile nelle forze armate venuto a mancare caduto per via dell'amianto o di altri agenti cancerogeni di avere giustizia ma non solo anche avere per i familiari la sicurezza di quanto meno di un piatto di pasta o della possibilità di portare come è possibile se si ottene quanto meno l'indennizzo un pazzo di fiori sulla tomba dei propri deceduti questo ritengo la cosa minima anche se purtroppo siamo ancora impegnati nei processi civili e penali a carico dello Stato quindi una situazione paradossale delle vittime che sono costrette a fare causa allo Stato perfettamente consapevole della situazione di natempimento tant'è vero che riconosce queste vittime come vittime del dovere e quindi del dovere nei confronti dello Stato di cittadini tutti uomini e donne che hanno sacrificato la loro vita per gli altri e i cui familiari debbono continuare a combattere per avere un minimo di giustizia e di indennità questo è il quadro della situazione e l'ONA è a fianco di queste vittime recentemente in portati sentenze del Tribunale di Trieste di condanna del Ministero dell'Interno per un caso di mesotelioma nei vigili del fuoco o del Tribunale di Roma per il caso di un deceduto nella Marina Militare Italiana quando si parla di diritti dei lavoratori esposti all'amianto spesso si fa riferimento al diritto al prevenzionamento se ce ne può brevemente parlare capiamo anche di che cosa si tratta i lavoratori esposti all'amianto al di là dell'insorgenza o meno delle placche degli spessimenti pleurici piuttosto che delle asbestosi hanno subito comunque un danno la Corte di Cassazione in ultimo della quarta sezione penale con la sentenza 45 935 del 2019 hanno acclamato il diritto il presupposto fondamentale del danno da esposizione le fibre creano infiammazione e sul presupposto della infiammazione vi è un danno un danno alla salute questo danno alla salute anche se non scaturisce in una vera e propria malattia in un vero e proprio cancro comunque rilevante e comunque da una prospettiva di vita inferiore di almeno 7 anni a fronte di questo c'è un diritto all'indennizzo o al risarcimento e questo indennizzo e questo risarcimento è contemplato dall'articolo 13,8 della legge 257 del 1992 cioè il diritto al prepensionamento questi lavoratori già presentemente esposti nel loro luogo di lavoro ad amianto e quindi alla fibra killer debbono avere diritto ad un prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione anche perché la legge Fornero ha enormemente ampliato il periodo di lavoro necessario e l'età in cui andare in pensione ed è per questo che a maggior ragione in questo caso si pone il problema del prepensionamento ma Siracusa come recentemente anche per la Firema in Campania assistiamo ad un comportamento inammissibile inammissibile dell'Inps che nega il diritto al prepensionamento a Siracusa attraverso un appello strumentale la corte di Catania ha ribaltato l'esito del processo di primo grado che permetteva il prepensionamento ad alcuni lavoratori pesantemente esposti ad amianto dell'ONA che ora sono in sciopero della fame abbiamo rivolto un appello al Ministro del Lavoro e abbiamo un incontro lunedì prossimo e quindi su questo noi intendiamo sollevare la nostra richiesta di prevenzionamento di applicazione della legge dello Stato se ciò non fosse possibile a settembre la nostra mobilitazione che ora è circoscritta solo ad alcuni siti verrà estesa tutto il territorio nazionale sarà una protesta non violenta uno sciopero della fame attraverso il quale noi intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma dell'amianto sulla ingiustizia della violazione delle leggi dello Stato che danno diritto ad un prepensionamento che l'Inpeso non intende applicare e su questo al di là delle sentenze dei tribunali conta la volontà del governo conta la volontà del ministro del lavoro e noi abbiamo fede e speranza che queste leggi dello Stato siano applicate in questo caso noi non intendiamo indireggiare né intendiamo essere pavidi combatteremo con lo strumento della non violenza ed in modo pacifico per affermare il diritto alla legalità al rispetto delle leggi dello Stato e quindi agiremo in tutte le sedi anche internazionali ebbene eccoci tornati avete avuto modo di sentire le parole dell'Avvocato Ezio Bonanni che ci ha raccontato parte di tutte le battaglie che negli ultimi anni hanno caratterizzato l'operato dell'Ona io mi sento di ringraziare tutto lo staff dell'Osservatorio Nazionale Amianto non solo coloro i quali sono apparsi in questo video servizio ripeto l'Avvocatessa Maria Luisa Greco e l'Avvocato Ezio Bonanni tante le domande a cui ovviamente speravamo di dare risposta crediamo di esserci riusciti soprattutto nel rendervi consapevoli rispetto a tanti rischi dovuti dall'esposizione all'Amianto nelle scuole negli ospedali nei luoghi di lavoro questo era l'obiettivo di questo servizio speriamo appunto di averlo soddisfatto questo l'ultimo tratto del nostro viaggio sottomarino in compagnia di Nautilus noi ci ritroveremo lunedì prossimo sempre sul 264 sempre su Cusano Italia TV grazie grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.